Ho trovato una cassettiera per strada ed è piena di oggetti, oggi li vediamo insieme Avevo giusto bisogno di una cassettiera nuova e ovviamente me la sono presa La cassettiera in questione è questa, mi piace perché ha uno scomparto qua sopra Vediamo che c'è dentro Allora nel primo cassetto, ok, sono dei fogli Possiamo chiudere Nel secondo cassetto, delle vaschette in plastica Dei semi di piante diverse, per la precisione sono 515 semi Un telefono della Panasonic, ma quanto è carino Usate ma queste forbici lunghissime Non penso di aver mai visto delle forbici così lunghe Un pacco di maniglie nuove Un cacciavite Perfetto, mi serviva anche il cacciavite E poi altri oggetti a caso ma questi penso che li butterò Terzo cassetto No raga, è un po' arrugginito però mi serviva anche sto coso Cioè sto trovando un sacco di cose utili L'ultimo cassetto, dei lacci per le scarpe Tra l'altro sembrano tutti quanti nuovi Beh raga vi dirò, io sono soddisfatta Grazie a tutti